Si chiama Leisha Davis, è una madre e psicologa della Gran Bretagna, quindi inglese, e è stata salvata, pensate, da Poppy, l'amata nipote. La donna infatti è svenuta la sera prima dell'intervento della piccola, questa bambina come Poppy, per colpa di un shock septico che si verifica quando si ha un calo di pressione e quindi gli organi iniziano a letteralmente cedere per colpa della sepsi. Il marito non era in casa, stava lavorando in un viaggio di lavoro, la piccola quindi ha scosso la mamma, caduto sul pavimento, l'ha fatta risvegliare e ce l'ha fatta, ha salvato la donna in questione che poi si è ripresa e per fortuna ha chiesto aiutare maestri e gli ha salvato la vita. La donna Leisha Davis deve dire grazie alla mamma, per l'appunto, bambina in questione, ossia la piccola, Poppy, Poppy, scusate, l'errore, imperdonabile. Da, da dove viene tutto, a volte i bambini sono quelli che ci salvano la vita, generalmente parlando, come nel caso di specie. Una buona giornata a voi e al prossimo vi ringrazio a tutti.